Buongiorno a Natale! Intervanzali PNL 2012! Raffa, è Natale! Vai, vai, la curva, fatelo partire bene, vai! Uno, due, tre! Vai! Vai, vai, su, su, su! Vai, vai, ancora, ancora! Bravi, grazie, un altro! Adesso, poi, quando faremo le foto, i ragazzi vengono a gruppi. Spoggiiamo la rete. Grazie! 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 Grazie!